Novella quarta. Don Felice insegna a frate Puccio come egli diverrà beato facendo una sua penitenzia, la quale frate Puccio fa e don Felice in questo mezzo con la moglie del frate si dà a buon tempo. Poi che Filomena, finita la sua novella, si tacque, avendo Dioneo con dolci parole molto lo ingegno della donna commentato e ancora la preghiera da Filomena ultimamente fatta, la reina ridendo guardò verso Panfilo e disse Ora appresso Panfilo, continua con alcuna piacevole cosetta il nostro diretto. Panfilo prestamente rispose che volentieri e cominciò Madonna, assai persone sono che mentre che essi si sforzano ad andarne in paradiso, senza vedersene vi mandano altrui, il che ad una nostra vicina non ha ancora lungo tempo, siccome voi potrete udire, intervenne. Secondo che io udì già dire, vicino a San Brancazio stette un buon uomo e ricco, il quale fu chiamato Puccio di Rinieri, che poi, essendo tutto dato allo spirito, si fece bizzoco di quegli di San Francesco, e fu chiamato frate Puccio, eseguendo questa sua vita spirituale, perciò che altra famiglia non avea, che non una sua donna e una fante, né per questo ad alcuna arte attendergli bisognava, usava molto la chiesa. E perciò che uomo idiota era, e di gran grossa pasta, diceva ai suoi paternostri, andava alle prediche, stava alle messe, nemmai falliva che alla lode che cantavano i secolari esso non fosse, e digiunava, e disciplinavasi, e bucinavasi che egli era degli escopatori. La moglie, che monna Isabetta aveva nome, giovane ancora di ventotto in trent'anni, fresca e bella, e ritondetta che pareva una mela casolana, per la santità del marito, e forse per la vecchiezza, faceva molto spesso troppo più lunghe diete che voluto non avrebbe, e quando ella si sarebbe voluta dormire, o forse scherzar con lui, ed egli le raccontava la vita di Cristo, e le prediche di frate Nastagio, o il lamento della Maddalena, o così fatte cose. Tornò in questi tempi da Parigi un monaco chiamato Don Felice, conventuale di San Brancazio, il quale assai giovane e bello della persona era, ed arguto ingegno e di profonda scienza, col quale frate Puccio prese una stretta dimestichezza. E perciò che costui ogni suo dubbio molto bene dissolvea, e oltre a ciò, avendo la sua condizione conosciuta, gli si mostrava santissimo, se lo cominciò frate Puccio a menare talvolta a casa, e a dargli decinare e cena, secondo che fatto gli venia. E la donna, altresì, per amor di Fra Puccio, era sua domestica divenuta, e volentier gli faceva onore. Continuando adunque il monaco a casa di Fra Puccio, e veggiando la moglie così fresca e ritondetta, s'avvisò qual dovesse essere quella cosa della quale ella patisse maggior difetto, e pensossi, se gli potesse, per tor fatica a Fra Puccio, di volerla supplire. E posto nell'occhio addosso, e una volta e l'altra bene astutamente, tanto fece che gli l'accese nella mente di quello medesimo desiderio che avea egli, di che accortosi il monaco, come prima destro gli venne, con lei ragionò il suo piacere. Ma quantunque bene la trovasse disposta a dover dare all'opera compimento, non si poteva trovare modo, perciò che Costei in niente luogo del mondo si voleva fidare ad essere col monaco, se non in casa sua. E in casa sua non si potea, perché Fra Puccio non andava mai fuor della terra, di che il monaco avea gran malinconia. E dopo molto gli venne pensato un modo da dover poter essere con la donna in casa sua senza sospetto, nonostante che Fra Puccio in casa fosse. Ed essendosi un dia andato a stare con lui, frate Puccio, gli disse così. Io ho già sei volte compreso, Fra Puccio, che tutto il tuo desiderio è di divenire santo. Alla qualcosa mi par che tu vadi per una lunga via, là dove ce n'è una che è molto corta, la quale il Papa e gli altri suoi prelati non vogliono che la si mostri. Perciò che l'ordine caricato, che il più di limosine vive, incontenente sarebbe disfatto, siccome quello al quale i più secolari, né con limosine né con altro, attenderebbono. Ma perciò che tu sei mio amico e hai mi onorato molto, dove io credessi che tu ogni una persona del mondo la palesassi e volessi la seguire, io te la insegnerei. Fra Puccio, divenuto desideroso di questa cosa, prima cominciò a pregare con grandissima istanza che gliela insegnasse, e poi a giurare che mai, se non quanto gli piacesse, ad alcuno no il direbbe, affermando che, se tal fosse che esso seguirla potesse, dimettervi sì. Poiché tu così mi prometti, disse il monaco, e io la ti mostrerò. Tu devi sapere che i santi dottori tengono che a chi vuol divenire beato si conven fare la penitenza che tu udirai. Ma intendi sanamente, io non dico che dopo la penitenza tu non sii peccatore come tu ti sei, ma verrà questo, che i peccati che tu hai fino all'ora della penitenza fatti, tutti si purgheranno e saranno ti per quella perdonati, e quelli che tu farai poi non saranno scritti a tua dannazione, anzi, se ne andranno con l'acqua benedetta, come ora fanno i veniali. Conviense adunque, l'uomo principalmente con gran diligenza, confessare dei suoi peccati quando viene a cominciare la penitenza, e appresso questo gli conviene incominciare un digiuno e un'astinenza grandissima, da qual conviene che duri quaranta di, nei quali non che da altra femmina, ma da toccare la propria tua moglie ti conviene astenere. E oltre a questo si conviene avere nella tua propria casa alcun luogo dove tu possi la notte vedere il cielo, e in sull'ora della compieta andare in questo luogo, e qui devi avere una tavola molto larga, ordinata in guisa che, stando tu in piedi, li possi le rene appoggiare, e tenendogli piedi in terra di stenderle brazza, a guisa di crucifisso, e se tu quelle volessi appoggiare ad alcun cavigluolo, puoi il fare. E in questa maniera, guardando il cielo, star senza muoverti punto, insino a matutino. E se tu fossi litterato, ti converrebbe in questo mezzo dire certe orazioni che io ti darei. Ma perché tu non sei, ti converrà dire 300 paternostri con 300 avemarie, a reverenzia della Trinità. E riguardando il cielo, sempre averne la memoria, il Dio essere stato creatore del cielo e della terra, e la passione di Cristo, stando in quella maniera che stette egli in sulla croce. Poi, come mattutino suona, te ne puoi, se tu vogli, andare, e così vestito, gittarti sopra il letto tuo e dormire. E la mattina appresso, si vuole andare alla chiesa, e qui vi udire almeno tre messe, e dir 50 paternostri con altrettante avemarie, e appresso a questo, con semplicità, fare alcuni tuoi fatti, se affarnai alcuno, e poi desinare, ed essere appresso al vespro, nella chiesa, e qui vi dire alcune orazioni che io ti darò scritte, senza le quali non si può fare, e poi, sulla compieta, ritornare al modo detto. E facendo questo, siccome io feci già, spero, che anzi che la fine della penitenzia venga, tu sentirai maravigliosa cosa della beatitudine etterna, se con divozione fatta l'avrai. Frate Puccio, disse allora, questa non è troppo grave cosa, né troppo lunga, ed è essi assai ben poter fare, e perciò io voglio al nome di Dio cominciare domenica. E da lui partitosene e andatosene a casa ordinatamente, con sua licenzia perciò, alla moglie, disse ogni cosa. La donna intese troppo bene per lo star fermo e infino a mattutino senza muoversi ciò che il monaco voleva dire, perché, parendole assai buon modo, disse che di questo e di ogni altro bene che egli per l'anima sua faceva, ella era contenta, e che, a ciò che Dio gli facesse la sua penitenzia profittevole, ella voleva con esso lui digiunare, ma fare altro no. Rimasi adunque in concordia, venuta la domenica, frate Puccio cominciò la sua penitenza e messerlo monaco, convenutosi con la donna ad ora che veduto non poteva essere e più delle sere con lei se ne veniva a cenare, seco sempre, recando e ben da mangiare e ben da bere, poi con lei si giaceva in fino all'ora del mattutino al quale levandosi se ne andava e frate Puccio tornava a letto. Era il luogo dal quale frate Puccio aveva la sua penitenza letto al lato alla camera nella quale giaceva la donna, né un altro lato era da quella diviso che da un sottilissimo muro, perché, ruzzando messerlo monaco troppo con la donna alla scapestrata e della con lui parve a frate Puccio sentire alcuno di menamento di palco della casa, di che, avendo già detti cento dei suoi paternostri, fatto punto quivi, chiamò la donna senza muoversi e domandòle di ciò che la faceva. La donna, che motteggevole era molto, forse cavalcando allora senza sella la bestia di San Benedetto, ovvero di San Giovanni Gualberto, rispose «Gnaffe, marito mio, io mi dimeno quanto io posso», disse allora frate Puccio «Come ti dimeni? Che vuol dire questo dimenare?» La donna, ridendo, che di buon'aria e valente donna era e forse avendo cagion di ridere, rispose «Come? Non sapete voi quello che questo vuol dire?» «Ora io ve l'ho udito dire mille volte! Chi la sera non cena, tutta notte si dimena!» Credettesi frate Puccio che il digiunare, il quale e la lui mostrava di fare, le fosse cagione di non poter dormire e perciò per l'oletto si dimenasse, perché egli di buona fede disse «Donna, io te l'ho ben detto, non digiunare, ma poiché pur l'hai voluto fare, non pensare a ciò, pensa di riposarti, tu dai tali volte per l'oletto che tu fai dimenare ciò che ci è!» Disse allora la donna «Non ve ne caglia, no, io so ben ciò che io mi fo, fate pur ben voi, che io farò ben io, se io potrò». Stette sia dunque cheto frate Puccio e rimise mano a suoi paternostri e la donna e messerlo monaco da questa notte innanzi, fatto in altra parte della casa ordinare un letto, in quello quanto durava il tempo della penitenzia di frate Puccio, con grandissima festa si stavano e ad una ora il monaco se ne andava e la donna al suo letto tornava e poco stante dalla penitenzia a quello se ne venia frate Puccio. Continuando adunque in così fatta maniera il frate la penitenzia e la donna col monaco il suo diletto più volte motteggiando disse con lui «Tu fai fare la penitenzia frate Puccio per la quale noi abbiamo guadagnato il paradiso» e parendo molto bene stare alla donna si savezzò a cibi del monaco che essendo dal marito lungamente stata tenuta in dieta ancora che la penitenzia di frate Puccio si consumasse trovò modo di cibarsi in altra parte con lui e con discrezione lungamente ne prese il suo piacere di che a ciò che le ultime parole non siano discordanti alle prime avvenne che dove frate Puccio facendo penitenzia se credette mettere in paradiso egli evimise il monaco che da andarvi tosto gli avea mostrata la via e la moglie che con lui in gran necessità vivea di ciò che Messerlo monaco come misericordioso grandi vizie alle fece mi è stato raccontato che vicino al convento di San Pancrazio abitava un certo Puccio di Rinieri un santuomo di riccone così preso dalle cose dello spirito che si accodò ai bigotti dell'ordine di San Francesco con il nome di frate Puccio dato che non aveva figli e non aveva bisogno di lavorare per mantenere la moglie e la serva il novello terziario se ne stava quasi sempre in chiesa a scaldare i banchi in ossequio a questa sua vita spirituale di scarpe grosse e cervello pure diceva sempre i suoi pater a Verequiem andava alle prediche puntuale alle messe ed era impensabile che fosse assente a una sola laude cantate dai confratelli digiunava si batteva con lo stafile e si bisbigliava che appartenesse al disciplinatissimo ordine degli scopatori nel senso dai lui dei pavimenti sua moglie Isabetta che era un gran pezzo di gnocca sulla trentina pronta ad accogliere come certe mele tutte rosse vuoi per la santità del marito vuoi piuttosto per la sua vecchiezza si ritrovava a fare delle diete molto più lunghe di quelle che avrebbe potuto sopportare quando voleva dormire o magari giocare un poco con lui al gatto e alla sorca frate Puccio saltava su con le sue storie sulla vita di Cristo sulle prediche di frate Nastagio sul lamento della Maddalena e via di crucis in crucis in quel periodo arrivò da Parigi un monaco don Felice che stava al convento di San Pancrazio gran bel ragazzo molto colto e brillante e che frate Puccio cominciava a frequentare con assiduità poiché Don Felice gli risolveva alla perfezione tutti i dubbi e visto che aveva fama di essere un vero stinco di santo frate Puccio cominciò a invitarlo a casa sua a pranzo o a cena a seconda delle occasioni Isabetta per amore del marito era diventata pure lei sua amica e lo riceveva molto volentieri le sue visite erano diventate così frequenti che davanti a quella giovanotta così fresca e formosa alla quale non mancava proprio niente Don Felice non poté non accorgersi alla fine che c'era qualcosa sì che ne mancava e pensò di fare un favore a frate Puccio togliendogli l'incombenza guardare bene una volta l'umala meglio una seconda riuscì finalmente a svegliare in lei la stessa curiosità che sentiva di me stargli si dentro e non appena se ne accorse approfittò della prima occasione per discutere con lei su come smetterla di flannellare e darle il filo da torcere tuttavia nonostante la donna fosse più che ben disposta ad andare al sodo non riuscirono a decidere come fare visto che Isabetta voleva andare a letto col monaco solo in casa sua ma qui era impossibile perché frate Puccio non lasciava mai la città vi lascio immaginare come il monaco fosse contrariato la furia di pensare però scogitò un sistema per stare in santa pace con la donna pure all'interno del suo focolare senza destare alcun sospetto malgrado il frate in casa un giorno che il nostro frate era andato a trovarlo don Felice gli disse ho ormai capito frate Puccio che la tua sola aspirazione è diventare santo mi pare però che stai seguendo una strada troppo lunga quando ce n'è una molto più breve il papa e tutti i suoi vescovi e cardinali la conoscono bene ma non vogliono che qualcun altro la scopra sai segreto professionale poiché altrimenti la classe dei preti che vivono delle offerte sparirebbe di colpo visto che se tutti fossero santi non ci sarebbe più nessun peccatore per fare l'elemosina o doni di alcun genere ma siccome sei un amico e sei stato così gentile se fossi sicuro che tu non la spifferi a nessuno e che vuoi davvero seguirla io te la indicherei frate Puccio curiosissimo cominciò a chiedergli con insistenza di indicargiela e a giurare che non avrebbe mai votato il sacco senza il suo consenso proclamando che se fosse stato all'altezza l'avrebbe seguita visto che me lo prometti disse il monaco te la mostrerò devi sapere che i padri della chiesa ritengono che per sfondare come santo bisogna fare la penitenza che sto per spiegarti ma intendimi bene non voglio dire che dopo averla seguita non sarai più un peccatore come lo sei adesso però tutti i peccati ti saranno cancellati e ti verranno perdonati anche quelli che commetterai dopo non ti porteranno alla dannazione eterna ti basterà un po' d'acqua benedetta per lavarli via come fai adesso con i veniali dunque prima di tutto per cominciare la penitenza bisogna confessare tutti i peccati e dopo iniziare un digiuno e un'astinenza che devono durare per 40 giorni durante i quali non dovrai sfiorare tua moglie nemmeno con un dito per non parlare ben inteso delle altre donne bisogna poi che in casa tua ti sia un posto dove si possa guardare il cielo di notte verso l'ora del tramonto dovrai andare lì prima però devi metterci una tavola bella larga in modo che stando in piedi ti ci possa appoggiare col fondo schiena quindi allarghi le brazza come se fossi sul crocefisso e se vuoi appoggiarle a qualche puntello no problem dovrai rimanere in questa posizione fermo come una statua fino all'alba se tu fossi un uomo di lettere dovresti recitare certe perghiere che potrei farti avere io ma dato che ti sei fermato alla prima elementare dovrai dire 300 paternoster e 300 ave maria in onore della trinità e quindi guarderai il cielo per non dimenticarti di dio creatore del cielo e della terra e della passione di cristo che sulla croce stava nella tua stessa posizione appena diventa chiaro se hai voglia puoi uscire di lì e gettarti così come sei sul letto per dormire un po' al mattino poi dovrai andare in chiesa ascoltare almeno tre messe e dire 50 paternostere 50 ave maria se poi hai qualche affare da sbrigare fallo pure poi mangia e al vespro ritorna in chiesa per dire certe preghiere che ti darò indispensabili credimi fatto questo alla sera te ne ritornerai al tuo posto e ti auguro che seguendo queste regole come ho già fatto io tu possa pregustare le meraviglie della beatitudine eterna ancora prima di aver finito il corso ovviamente dovrai averlo fatto con profitto non è poi una cosa troppo difficile disse frate Puccio è nemmeno troppo lunga eh sì mi sembra fattibile quindi in onore di Dio voglio cominciare domenica questa lasciato Don Felice se ne ritornò a casa e con il permesso del monaco raccontò il sacro bignamino per filo e per segno alla moglie la donna capì fin troppo bene perché il monaco gli aveva detto che doveva restarsene immobile fino all'alba e visto che le sembrava un'ottima condotta disse che sarebbe stata contenta di qualsiasi cosa suo marito facesse per il bene della sua anima anzi per rendere ancora più gradita la penitenza al signore avrebbe digiunato con lui ma stop la faccenda si risolse dunque senza problemi e giunta la domenica frate Puccio cominciò il suo mistico berliz serale intanto il monaco d'accordo con Isabetta iniziò ad andare a cena da lei quasi tutte le sere quando nessuno poteva vederlo portando con sé ogni ben di convento rimaneva nel letto fino all'alba e poi se ne andava per lasciare il posto a frate Puccio che ritornava per dormire lungo stecchito la stanza che il frate aveva eletto a luogo di penitenza si trovava a fianco della camera da letto separata da un muro molto sottile una notte mentre il monaco e la donna si davano a maneggi e bagordi un po' troppo rumorosi frate Puccio ebbe l'impressione di sentire le tre mezze tremargli sotto i piedi e visto che aveva già detto cento paternoster chiamò a gran voce la moglie per chiederle cosa diavolo stesse facendo la donna che era una matta per il ridere e che in quel momento stava cavalcando senza sella una bestia assai asinina gli rispose insomma caro io mi meno e mi rimeno come mi pare e piace a che frate Puccio come sarebbe a dire che ti meni cosa vuol dire che ti rimeni la moglie ridendo dato che era una donnina allegra e ci sapeva fare e forse anche perché aveva i suoi buoni motivi per ridere gli rispose ma come non riesci a capire proprio tu che mi hai detto mille volte chi di sera non cena tutta notte si dimena a frate Puccio sembrò di capire che il digiuno che sua moglie fingeva di seguire davanti a lui le impedisse di dormire e che questo fosse la causa del suo barcamenarsi nel letto così in buona fede le rispose Isabetta quante volte ti ho detto che tu non devi digiunare ma visto che vuoi farlo anche tu non pensarci e cerca di riposarti ti dai certe rigirate in quel letto che fai tremare tutta la casa non preoccuparti che so quello che faccio ribatté la donna tu pensa a fare quello che devi e io mi arrangio come posso frate Puccio allora si calmò e ricominciò coi suoi paternoster dopo quella sera la donna fece mettere un letto in un'altra stanza e qui col monaco se la faceva alla missionaria e oltre mentre il marito faceva la sua bella penitenza non appena don felice se ne andava isabetta tornava nel suo vecchio letto dove subito dopo si sdraiava anche frate Puccio di ritorno dalle sue preghiere così mentre Puccio continuava con i suoi paternoster la moglie si faceva sgranare dal monaco e spesso gli diceva grazie della penitenza che fai fare a fra Puccio il paradiso lo abbiamo guadagnato noi ma prima ancora che il marito avesse terminato la sua santa escalation isabetta che si trovava davvero benone con il monaco e si era ormai abituata a quelle predibatezze che il marito le aveva sempre fatto mancare cominciò a soddisfare la sua smania da golosona anche fuori di casa e pian piano imparò ad esercitare il palato al meglio fu così che frate Puccio convinto di guadagnarsi il paradiso con la sua penitenza ne aprì invece le porte al monaco che gliene aveva indicato la strada e a sua moglie alla quale aveva fatto mancare ciò che Don Felice da gran misericordioso qual era le diede in grande abbondanza senza tirarsi mai indietro o solo al momento giusto di guadagnarsi di guadagnarsi di guadagnarsi di guadagnarsi di guadagnarsi di guadagnarsi di guadagnarsi